salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio portare ancora sul canale un video dedicato a lei la magic mask questo visore che è compatibile con qualsiasi drone voi abbiate love costo un drone costosissimo di dj ai qualsiasi drone voi abbiate potete usare questa maschera o meglio questo visore che vi dà la possibilità di utilizzare appunto sia qualsiasi drone voi abbiate che qualsiasi applicazione il drone abbia per essere pilotato quindi potremmo utilizzare sia le applicazioni ufficiali quelle dj fly per quanto riguarda dj ai o filmi navi per quanto riguarda i prodotti filmi o via dicendo i vari up sun up san zino droni love cost qualsiasi applicazione loro abbiano diciamo ufficiale la potete utilizzare o altrimenti potete utilizzare applicazioni terze parti se già le utilizzate con i vostri doni soprattutto per quanto riguarda poi i droni dj ai quindi qualsiasi applicazione è compatibile con lei ed è questo veramente ragazzi è la cosa importante e che dà veramente il senso di questo visore e ho deciso oggi di portare questo nuovo video dedicato appunto a questo visore perché nel video scorso quello che ho portato circa una decina di giorni fa l'ho fatta vedere l'ho spiegata e tutto ma non l'ho utilizzata perché mentre la si utilizza comunque non si può trasmettere quello che veramente ci viene dato a livello di esperienza da questo visore perché per capirlo fino in fondo va utilizzato quindi non posso farvi vedere anche se vi facessi vedere cosa vedo in realtà è lo schermo del telefono quindi è come lo si vede che appunto fa la differenza rispetto a qualsiasi altro visore e soprattutto visori che non siano visori specifici per qualche dispositivo nel caso di un dj fpv il visore tanta roba qualità è impeccabile livello di definizione incredibile però ovviamente il visore è compatibile solo con quel drone qua invece abbiamo un visore che è compatibile con tutto e vi assicuro che a livello di impatto per quanto riguarda l'immagine che vediamo e la definizione che vediamo non ha niente da invidiare al dj fpv dal punto di vista degli occhiali dedicati a quel drone oggi ve lo farvi vedere appunto dove secondo me danno il meglio di sé perché il meglio di sé lo danno sempre ma in certe situazioni proprio li si apprezza ancora di più perché perché in situazioni come queste sono al mare quindi giornata di sole e quando vogliamo con il drone in location come queste cioè al mare o anche in montagna in certe situazioni comunque quando c'è il sole forte e tanti riflessi così nel telefono vediamo realmente davvero poco a meno che ci mettiamo in posizioni nascoste all'ombra però diventa un poco comodo utilizzare poi il drone perché magari poi non siamo direzionati con l'antenna verso il drone quindi tutto diventa un po' più complicato mentre con loro ragazzi vediamo che è uno spettacolo in qualsiasi situazione ed è questo che fa la differenza anche nel l'utilizzo e nell'esperienza di utilizzo di un visore di questo tipo mi è caduto il cavetto per collegare gli occhiali al radiocomando dj allora per la maggior parte dei droni basta un cavetto otg cioè questo qua per intenderci poi ci attaccate il cavetto che utilizzate normalmente per ricaricare il vostro smartphone e pronti via quindi un qualsiasi cavetto otg che abbia type c da questa parte ovviamente usb da questa parte per quanto riguarda invece il film mini ragazzi è un po' diversa la cosa film non so come mai ovviamente le cose semplici ogni tanto gli scappano gli sfuggono di mano cosa ha fatto ha fatto un cavetto dedicato voi come qualsiasi cavetto andiate a sostituire al suo cavettino originale praticamente nello smartphone non vedrete niente perché non si connette l'applicazione allo smartphone e al drone bisogna utilizzare per forza il suo cavetto dedicato che trovate nella confezione quindi per poterlo utilizzare dovete acquistare un cavetto che abbia una femmina lighting se avete un iphone da una parte mentre dall'altra estremità dovete avere un lighting se avete un iphone mentre se avete un qualsiasi altro telefono dovete avere il suo cavetto originale type c type c anche se un type c talmente strano che non è compatibile con niente quindi non sostituitelo mentre dall'altra parte ci mettete una femmina type c che abbia nell'altra estremità una presa type c maschio quindi una sorta di prolunga dovete fare una prolunga del suo cavetto originale questo per quanto riguarda appunto il film in mini mentre qualsiasi altro drone ha bisogno di un cavetto otg filmi riesce sempre a sorprenderci con qualcosa di negativo incredibile non riescono a fare un prodotto fatto bene all'inizio alla fine non sempre fare qualcosa di assurdo all'interno dei loro prodotti inspiegabile comunque adesso volevo fare una prova qua con il drone con il visore per farvi capire il tutto anche se ovviamente come vi ho detto non posso trasmettervi la qualità e quello che sto vedendo all'interno del viso dal punto di vista dell'esperienza che ci fa vivere appunto questo tipo di visore a differenza di qualsiasi altro visore low cost che poi deve avere comunque un'applicazione dedicata per poter essere utilizzato quindi ragazzi adesso preparo tutto e decolliamo con i magic mask con il dj ai mini 2 ovviamente compatibile anche con il mini 1 ok ragazzi adesso possiamo partire ok ragazzi siamo pronti al decollo e vi assicuro che uno spettacolo uno spettacolo uno spettacolo ragazzi uno spettacolo ci sono una marea di gabbiani speriamo che non mi abbattano il drone perché ce n'è davvero tanti infatti è solo video per farvi vedere o meglio farvi vedere poco perché non riesco ovviamente a farvi vedere un bel niente ma per cercare di trasmettervi realmente quello che si vede all'interno di questo visore è l'unica pecca che ha questo visore secondo me a differenza di quello di dj ai che ovviamente vabbè a livello sto parlando sempre a livello di qualità di immagini e non di quello che il visore fa o non fa livello di qualità di immagini la differenza principale ce l'abbiamo nel peso che mentre in quello dj ai proprio non abbiamo il minimo peso non lo sentiamo minimamente qual peso ragazzi si sente si sente anche in maniera abbastanza importante è questione di abitudine però per chi abituato a avere visore tipo quelli di dj ai ragazzi la differenza è abissale da quel punto di vista però poi dal punto di vista puramente dell'esperienza ragazzi è incredibile incredibile se poi avete un provato ad utilizzare visori economici quali da 20 euro con le applicazioni dedicate che dividono l'immagine o meglio raddoppiano l'immagine in due porzioni identiche per appunto creare questo effetto in ogni lente che però hanno una qualità a livello di qualità visiva abbastanza scarsa qua la qualità è incredibile incredibile e vi assicuro che riuscite a fare cose che non riuscite a fare se utilizzate lo smartphone attaccato al controller certi passaggi in certe zone perché comunque qua si ha più la percezione di dove si sta passando e di quanto vicino si sta passando e poi come ho detto in situazioni come queste di mare si ha una qualità e soprattutto si riesce ad utilizzare lo smartphone in maniera molto molto più precisa perché comunque si vede quello che si fa mentre sapete benissimo che è una delle cose più fastidiose quando c'è poca luce capire cosa si sta facendo e cosa si sta inquadrando fantastico è fantastico e la cosa brutta è che non si può diciamo trasmettere quello che realmente si vede cioè quello cioè io posso trasmettervi le mie emozioni posso trasmettere le mie sensazioni ma niente di più vi faccio vedere quello che sta registrando lo schermo ma niente niente di più di questo qui c'è delle mie sensazioni sono da provare ed è ragazzi una cosa incredibile incredibile adesso ritorno perché comunque ho schivato abbastanza gabbiani ma è andata bene quindi direi che possiamo ri atterrare anche perché ha solo un voletto easy giusto per farvi capire che cosa si ottiene da questi occhiali e trasmettervi le sensazioni o meglio le mie sensazioni utilizzando questo visore adesso ritorniamo alla base eccomi qua mi vedete ragazzi sono qua e ragazzi tanta tanta roba è come ho già detto nel video in cui io ve li ho presentati se avete un drone di qualsiasi tipo marca modello che abbia comunque un'applicazione per poterci volare comprateli e ragazzi rimarrete di stucco e in più in situazioni come queste in cui siete in vacanza la sera andate a letto fate partire nel vostro telefono un'applicazione tipo disney plus se l'avete amazon prime video netflix youtube per guardare i miei video o anche i video di qualcun altro ovviamente ragazzi ve li gustate in maniera incredibile quindi non dovete tenervi in mano lo smartphone e soprattutto avete questo schermo gigantesco davanti a voi perché non avete più uno smartphone ma avete uno schermo tipo cinema come se andaste al cinema quindi avete questo schermo gigantissimo davanti a voi è una qualità incredibile quindi siete a letto stanchi della giornata di mare vi sdraiate cuffiette fate partire il vostro video preferito il vostro youtuber preferito sperando di essere io o il vostro film preferito o la vostra serie tv preferita ragazzi tanta tanta roba quindi adesso ragazzi non mi resta che ri atterrare ok ragazzi allora diciamo che i gabbiani erano molto infastiditi dalla sua presenza ma tanto infastiditi adesso addirittura arrivano vicino lui era fermo lì in hovering erano a distanza di due metri da me e i gabbiani gli arrivavano vicinissimi per spaventarlo non l'hanno mai attaccato ma gli volavano vicino appunto per spaventarlo ovviamente lui non si spaventava ma io tantissimo nel vedermeli passare vicino anche adesso mentre ero girato verso la telecamera col drone in hovering ne ho visto passare uno e veramente mi sono spaventato tantissimo quindi ragazzi questo era solo un video per cercare di trasmettere le emozioni le sensazioni dell'esperienza che ci viene data con questo visore ragazzi è una cosa incredibile e soprattutto perché in situazioni di mare come questa anche se oggi la giornata non è di quelle paura c'è un po di nuvole bianche che vanno un po a coprire il sole sapete benissimo che quando il sole è forte si vede davvero poco nello smartphone e con questo visore vedete benissimo in qualsiasi situazione quindi ragazzi spero di avervi trasmesso le potenzialità che hanno questi occhiali o meglio questo visore di avervi trasmesso le mie sensazioni spero che sia stato così se è stato così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove ho portato tante novità curiosi tante prime voli in fpv spoiler dei prodotti che arriveranno stampe 3d e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdermi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial novità ciao